La rivelazione calciopoli di Moggi, su 170.000 intercettazioni solo 25 sono andate alla Juve. Luciano Moggi è intervenuto durante l'episodio realizzato dal rapporto su calciopoli che andrà in onda lunedì sera. L'ex allenatore della Juventus torna a raccontare la verità sul processo sportivo 2006. In un video condiviso dalla pagina Twitter ufficiale di Report, Moggi ha detto, in questa flash drive ho portato le voci di chi, in sostanza, viene intercettato e cosa dicono? Di 170.000 intercettazioni solo 25 riguardano la Juventus. Una rivelazione che potrà essere ulteriormente integrata quando verrà rilasciata l'intervista completa. Lo stesso Moggi, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha aggiunto, Calciopoli si chiama questo processo che 17 anni fa ha coinvolto persone innocenti e distrutto il calcio in Italia. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.